Se state vedendo questo video vuol dire che la mia camera è in completo disordine, ho passato la nottata a giocare ad Overwatch e vi state per vedere una partita di ranked bellissima ragazzi Perché sì, ci hanno giocato Sombra contro, una partita con tutti i master, qualche grandmaster, qualche top 500 e niente Sombra è così forte che fa crashare i pitch alla gente, beh godetevi questo 5v6 e questa ranked da paura giocata con Ana Let's go baby, primo video molto serio diciamo di ranked, godetevelo, fatemelo sapere con un commento, porterò altre partite di ranked e mi raccomando venite questa sera in streaming per un venerdì sera in streaming assieme Let's go baby, ci sentiamo al fai schifo Allò, allò B champion, B champion, B champion B champion B champion E' pizze Luzio non è fuori meta per un cavolo Per niente droghi Non, 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 non. Oh, man. Fullback, fullback. Yeah, ti verrai. You don't have a Reynor guys Oh, magari i should kill a Reynor I'm a soldier btw, right side Go if you want to kill him, ok ok nice job Non si può evitare il Reinhardt Earth Shatter, quindi sarà difficile. Non puoi uscire lì. Non puoi uscire lì. Come down. Rai fuori, rai fuori. Ok, ok. Ok, è vero. Ehi siamo. Ficci aто peccato. Quanti sono i Sombra? Oh brevi. Stop sticcato, ragazzi, vai. Sombra è l'altra parte. È lì! Bello che l'affirano sia non sono lì. oh she's here on the bridge oh man rodo is top right top left rodo is top left they are all top left yeah no way come on guys let's keep it going man good job hey man tank tank are you alive yo reinhardt reinhardt are you alive reinhardt i think you got acted by sombra oh my god no don't be afk please please not in the middle of the fight just heal him heal him heal him heal him i'm blocking for him oh come on what the hell is this shit come here sally no farah we're gonna kill him i'll get you one hp i've got you in my face no the fucking way why why couldn't they fucking dc in the beginning like what why now i've got you in the middle of the fire i've got you in the middle of the fire i'm in the middle of the fire chissie oh my god and how to get me No, l'ho sbagliato No, l'ho sbagliato No, l'ho entrato Che vita di merda No, l'ho sbagliato Sbagliato, l'ho sbagliato Sbagliato Probably me too Just like this No, l'ho beat me man, l'ho behind them The fuck The fuck He might join back He is back Oh my god Let's go Oh my god Holy shit Let's win this, come on Jesus Christ, did we fucking win now? Yeah Where were you Adelaide? I missed you man Well I got hacked by Sombra guys Holy shit dude For reals, she hacked me in game in my computer It never happened Well let's just fucking win this No way Bye bye man No Let's try to contest guys No No, no fucking win No It's hard to come back from this position Yeah, I know, I know Well, let's just fucking push the cart even faster Yeah, let's do it faster I mean, I think we're better than them Wow I have only two xpack I have 1400 but I have 1200 What a shame We could win this game Did your computer die or what happened? Yeah, blue screen Damn, that's weird Yeah, literally one second after Sombra hacked me In the game Oh my god Come on guys, let's push this faster and let's win this shit, okay? She's fucking OP, Sombra crashes people's computers Yeah Do you want me to go Ryan or do you want me as monkey? Ryan would be nice They probably don't go with him and your earth chatter will just be unstoppable Come on let's bring it together Whoa let's bring it together This is gonna make you feel better Video there chapped E VCH tro I remember being posted here It was good for my Dad cosa pensi di sombra un buon personaggio ha cambiato il meta ora si potrà giocare in modi molto più vari si potranno sfruttare nuove tipologie di comp assolutamente diciamo che è un flanker io lo vedo più come un flanker o un personaggio utility però devo dire dobbiamo fare voglio andare Anna? sì io voglio Anna certo sorry vieni 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 non è è un personaggio molto particolare Sì, scusate No, 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 no. F*** io ho usato... Eh, no, fu*****o. Team di merda. Dici, non è greco? Non, non li seguo però tutti, sono ancora nuovo dal mondo del PC, e magari non è più possibile, ma non è f***o. Eh, quasi abbiamo un full ultimo, siamo in un po' ora. Sì, probabilmente devo solo solo a nano-boost il soldi, se volesse. Soltier, puoi andare a top? Non, c'è qualcuno? Soltier è a top Soltier è a top Puoi andare a top? C'è Zeno Voi, hai... Voi, hai... Voi! Voi, voi! Oh, come on, you had one job, kill the Pharah She was behind you Yeah, I didn't see and when I heard you screaming I had to reload Mate, she jumped in front of you And she went behind you Try to get some picks, everybody go in and let Mercy rest Dev Zeniada Oh, nice, yeah, that's a pick Behind, behind, behind Behind, behind, behind 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 Behind, guys Nice Let's go Oh, I can't heal you, fuck Is she? We got two intro kill Let's come and put drag around How much for your ulti, Soltier? So, try to stay on the top I'm coming with you Three on payload, please I'm coming to illio No way No fucking way I'm not coming to illio Stand away tore back I will keep you here No, no me now tf, tf pv? Ah, he's dead Shit, I need help It's the end, guys It's the pregroup Nooo Nooo Oh no 2k, non mi ha dato Letta Ana heal, letta Ana heal Yeah, I'm coming Wait a probi run, don't go without us Let's go What are you waiting for? 3, yes Rinaldo da bubble bind Come on He's leaving Come on guys She's dead, that's good Oh come on My servants never die Fall on the shot Oh, let's go Let's rock this shit Rotak low on pain You shit guys, come on Can you come outside so I can heal you? You mean inside? Yeah inside, oh my god No 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 We're getting a, oh nice Get here and fail Get here and fail Get here and fail Get here and fail They can't help I need healing He healing man I'm out Chi ha la ultima? Non mi ha visto, non mi ha visto Non adesso C'è chi? Non è, non è Bene, bene No No? I can't see you? Non ho detto Come on, ragazzi Slippi C'è chi? C'è chi? C'è chi? Rains From above Nice Ok, now we defend like first round and we win Good game Wait, he ints Let's play correctly now, ok? Yeah I'm gonna try to not be so reckless like last time Yeah Never stop fighting for what you believe in I hope you're enjoying my Belgian Pleiadiana Where I shot the important sleep Are you gonna have time to build up for a Maris heroes? Oh, no, never mind Didn't think about the Maris and Solar combo No Ok 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 Na Ora sto 3000 out e qualcosa, sono sceso tantissimo da quando è uscita Sombra perché la gente trolla, poi match a volte con dei MMR tipo fuori di testa, tipo 3500, bella Graf Buon lavoro con il resto, per l'altro Sì Buon lavoro con il resto, per l'altro Buon lavoro con il resto, per l'altro Buon lavoro con il resto 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 3 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 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 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 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 9 10 10 Siamo iniziativa Diamo la sua esperienza Buonissimo Bine Nessuno è pushingendo la baile Per la bine 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 Lusi è dorme Donde? Cosa Un ulti Tu hai ulti? Si Mi terrà dire a te Per la bine Si Siamo a ulti Noll'in49 Sì, non preoccupi Sì, sono pronti? Non c'è nessuno qui Non, non c'è nessuno Sì, non c'è nessuno Sì, non c'è nessuno Sì, non c'è nessuno Merda, loli shot Slip the Pharah No, contest, contest, contest Contest, contest Contest, contest Holy shit, la mia vita Mamma mia, che slip della Madonna ho tirato I slap the Pharah Oh my god, abbiamo f***ing won, buon job Abbiamo won con un AFK Non è un segreto come abbiamo vinto, bella cazzo È così che si gioca Uh Che match ragazzi Play of a match Grazie 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 Grazie